Io non ho mai provato urrà. Provalo, urrà saiva, è tutto nuovo. Ah sì? Sì, è più ricco, fuori c'è il cioccolato, ma se lo mordi scopri che dentro ci sono cinque cialde con in mezzo una morbida crema. Io non ho mai provato urrà. Ma come non hai mai provato urrà? Urrà! No, non ho mai provato urrà. Beh, peccato. Urrà saiva, se non mordi non ci credi. Certo, ma se non mordo come faccio io?